no c'è il senso, per quello qua senza e la ragazza fa uno sceso ma non so che serve il senso, ma non mi dicono ma dai orgoglio dicevo che dicevo come me si si è il fricero si si, è il vostro rinomai ah si si ah si va che non ci si mi sa che non ci sia mi sa che non ci sia la sua intanto mi scusa no, mi scusa è quello che fa e mi ha rifugiato ma non ci fa anche il volante voi fate sempre tutti quando sta arrivando a notte o quando è già notte no, no, non è male c'è un po' no, no, no 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 ragazzi ci sono 4 e mi hanno fatto un ciclo ma non so che stai non so se mi casca non so se mi casca non so se mi casca non so ma non so e sono 4 lavorare più di un paio spostato il trattore però non so ma non so se mi casca ah ma non so ma non so